Sicuramente è presto per dire che dopo le vittorie con Manchester e Crotoni la Roma è definitivamente uscita dalla crisi, ma è indubbio che i giocatori stanno giocando con maggiore convinzione e tranquillità e le parole di Pellegrini nel post partita me lo hanno confermato, parole che come al solito hanno diviso la piazza tra chi gli dà ragione e chi pensa che lui non dovrebbe più fare nessuna intervista. Io sono d'accordo con i primi ma in parte anche con i secondi perché ormai Pellegrini è nella condizione in cui può dire anche che il nazismo è stato sbagliato e comunque ci sarebbe qualcuno che gli verrebbe a dire che ha detto una cazzata, per fare un esempio un po' pesante per farvi capire che qualsiasi cosa ormai fa ai tifosi non va bene perché non è quel prototipo di capitano che magari si aspettano. Ma facciamo un pochino d'ordine, dopo la vittoria per 5-0 contro il Crotoni Pellegrini è stato intervistato ed ha ammesso ai giornalisti che la Roma ha vissuto un periodo di blackout più che altro che aveva deciso di togliere la spina e di conseguenza a molte ha dato fastidio questa cosa perché dovevano sempre rispettare le partite di campionato eccetera eccetera. Io sono d'accordo sul fatto che comunque il campionato doveva essere comunque onorato anche se le squadre avversarie avevano preso un pochino di largo e la giustificazione dell'Europa League la capisco fino a un certo punto perché ok che tu vuoi puntare principalmente a quello ma perdere con Torino, Cagliari, pareggiare col Benevento e questo e quell'altro è un pochino troppo. Si poteva fare qualcosina di più perlomeno per non rendere il campionato nelle ultime giornate totalmente insignificante, bastava che tu vincevi, facciamo due esempi, con Parma e Torino, non due vittorie impossibili e già eri sulle zone più vicine all'Europa League, almeno davi un pochino più di senso al campionato italiano e non rendevi l'Europa League come unico obiettivo di salvezza della stagione. Quindi io sono d'accordo che comunque si poteva usare diverso atteggiamento. Non capisco però perché criticare queste parole per la loro sincerità, nel senso quello che è successo sotto gli occhi di tutti, ma se avesse detto il contrario per me sarebbe stato peggio. Cioè se lui avesse detto no, noi abbiamo voluto impegnarci al 100% sia in campionato che in Europa, io mi sarei incazzato perché è palese che non è così. Cioè io preferisco mille volte una persona, in questo caso un giocatore, che ammette davanti a tutti che la Roma è stata anche magari non volontariamente deconcentrata dall'impegno in Europa. Ha sottolineato poi che nessuno dei giocatori della Roma ha piacere nel perdere e di questo ne sono contento, ma mi pare anche ovvio perché comunque anche se sono pagati lo stesso non è che devono essere contenti di perdere. Anche perché i risultati della propria squadra porteranno poi alla loro conferma. Cioè un giocatore, anche se ha lo stipendio, deve comunque pensare che se non sta facendo bene la sua squadra, molti giocatori rischiano di partire. Tra cui appunto lui e sotto questo punto di vista infatti è giusto che abbia confermato che ai giocatori non piace perdere. Ma mi sembra una cosa scontata che però per molti non lo è. E questa è la cosa che mi dà fastidio perché Pellegrini in questo caso secondo me non si può criticare. Perché può non piacere dal punto di vista tecnico, può non essere considerato il miglior capitano della nostra storia. Io sono d'accordo, ma cerchiamo un pochino di stare calmi con il giudizio che abbiamo su di lui. Perché non è possibile che qualsiasi cosa fa bisogna sempre lamentarsi. Ha detto queste parole dopo una partita in cui, seppur contro un avversario non irresistibile, è riuscito a fare doppietta e comunque a farsi vedere bene in mezzo al campo. E bisogna sempre pensare a rompergli i coglioni, a dire no però non dovevi dire questo, non dovevi fare quello, non va bene questo, non va bene quello. Siete stressanti, siete stressanti con i giocatori e nel suo caso ancora di più. Perché sicuramente non è il miglior giocatore che abbiamo avuto, ma trattiamolo con criterio, trattiamolo con il dovuto rispetto. Anche perché vi sottolineo, la fascia non l'ha voluta lui, non è che lui ha fatto mille casini, mille discussioni per avere la fascia. Lui l'avrebbe mantenuta sul braccio di Dzeko fino alla fine della stagione. Magari perché non si sente pronto, ci sta, ma non possiamo aspettarci da lui il carattere, la forza, la grinta dei capitani come Totti e De Rossi, perché se o ce l'hai o non ce l'hai. Lui sicuramente la grinta ce l'ha, sicuramente lui si impegna tantissimo per la causa della Roma, ma è un giocatore di buon livello, non un fenomeno. Trattiamolo per quello che è. Ricordatevi, lo sottolineo per l'ennesima volta, che la fascia non l'ha voluta lui. Quindi il fatto che lui ce l'abbia non significa che debba essere perfetto in tutto e per tutto, perché non tutti i capitani che giocano in Serie A sono perfetti. Capite questa cosa? È normale volere sempre qualcosa di più, soprattutto se sono romani e romanisti. È un po' come se noi li giudicassimo come nostri figli. Di soliti i padri sono molto più esigenti con i propri figli perché vogliono sempre il massimo. Ma bisogna sempre, non bisogna superare un certo limite, perché superando quel limite si diventa pesanti e si rovina il percorso calcistico dei propri figli, il percorso di vita, diciamo, dei nostri figli e il percorso calcistico di giocatori come Pellegrini. Quindi più lo lasciamo stare e meglio è. Se poi ovviamente fa una cazzata colossale sia a livello di dichiarazione che a livello di prestazione, è giusto che venga criticato per quell'episodio. Ma non va bene che qualsiasi cosa fa, stato puro ragazzo, deve essere sempre bersagliato. Poi adesso qualcuno mi dirà, eh sì, ma prende tanti milioni, noi abbiamo il diritto di criticarlo. No, perché non è che se io prendo tanti soldi allora tu puoi venire a dire figlio di puttana perché tanto io prendi soldi. Bisogna essere intelligenti anche in quello che si dice, ma indipendentemente dalla persona che ti trovi davanti. Perché il fatto che io possa guadagnare tanti soldi ed essere ricco non vuol dire che la gente abbia diritto a dire di me tutto quello che gli pare. Capite il senso di questo discorso? Perché anche se prendete i soldi restate comunque degli esseri umani che hanno un carattere e hanno dei sentimenti. Ed essere bersagliati ogni secondo per ogni minima cosa che fai diventa pesante. Dopo se il giocatore non gioca bene in parte è anche colpa vostra. Magari è anche colpa sua, ma in parte è anche colpa vostra. Cercate di mettervi in chiaro questo discorso. Poi, togliendo la questione Pellegrini, parlando un pochino della partita di ieri voglio aggiungere qualche dettaglio. Queste ultime partite secondo me potranno essere utili per quanto riguarda il discorso dei giovani. E mi hanno fatto cambiare idea, tra l'altro un utente nei commenti mi ha aiutato in ciò, sul discorso Conference League. Io ho sempre pensato che, o comunque nell'ultimo periodo, ho pensato che la Roma potesse anche non farla in quanto per il percorso di crescita che dobbiamo fare per il progetto nuovo con Murigno si poteva anche dedicarci, si poteva anche dedicare solamente a campionato e Coppa Italia. Ho pensato però a una cosa. Le ultime partite, soprattutto il ritorno col Manchester, mi ha permesso di vedere all'opera giovani come Zalewski e Darboe. E il percorso negativo in campionato ha portato appunto a fare scelte diverse. Poi se ci mettiamo anche 100.000 infortuni è tutto quanto collegato, diciamo. Sto pensando che la Conference League potrebbe essere usata come modo per dare spazio a questo tipo di giocatori perché tu comunque gli permetti di fare una competizione europea. È qualcosa di più del campionato primavera. Gli dai comunque un giusto ruolo e gli dai un minutaggio, li rendi importanti. Questo secondo me può essere il lato positivo ed una sorta di motivazione in più per raggiungere questo benedetto settimo posto che comunque è una merda. Cioè lo dico francamente, arrivare settimi è una merda, mi pare ovvio. Però arrivati a questo punto con le squadre in avanti che sono irraggiungibili cerchiamo perlomeno di mantenere questo obiettivo perché la Roma ha le potenzialità per farlo. È vero, adesso in una settimana ci incontriamo l'Inter mercoledì e la Lazio domenica. Quindi proprio in sette giorni ci incontriamo due squadre a dir poco temibili. Temo di più la Lazio, sono sincero, perché comunque la Lazio anche se lontana ha ancora aperto l'obiettivo della Champions League e sicuramente il derby è una partita a parte. L'Inter pur temendola perché è la capolista e con la Samp ha dimostrato di non voler regalare niente a nessuno. Credo che comunque se tu l'affronti con il giusto criterio, non come ha fatto la Samp perché Ranieri è stato bravissimo per quello che ha fatto prima della partita ma poi in campo la sua squadra non ha praticamente giocato. Se tu comunque giochi con la giusta grinta e attenzione, magari anche un pareggio ci può stare secondo me. Poi ovviamente il derby sarà una partita a parte ma fatto sta che mi aspetto dai giocatori qualcosa in più. Se è vero che l'effetto Mourinho e contemporaneo all'eliminazione in Europa hanno svegliato la squadra e gli hanno fatto ritrovare motivazione, dobbiamo mostrarlo sul campo. Io sono contento appunto che stiamo facendo queste vittorie che ovviamente hanno la loro importanza relativa però servono perlomeno per far tornare un po' di buon umore all'interno dell'ambiente. Adesso cerchiamo di concludere con dignità. Sono convinto che sotto traccia Tiago Pinto e Mourinho già stiano lavorando per la Roma del futuro e queste partite servono anche per fargli capire quale giocatore può restare e quale invece se ne deve andare. Però proprio per questo motivo mi aspetto da tutti un impegno ancora maggiore perché sì, col Crotone lo sottolineo, era una partita sulla carta semplice ma quante partite sulla carta semplice la Roma ha toppato quest'anno? Cioè col Parma, il Parma sapeva di retrocedere anche prima della vittoria contro di noi eppure gli abbiamo regalato la partita. Non sto esaltando la vittoria col Crotone, sia chiaro. Però è dimostrato comunque di volerla vincere, di volerti impegnare, di fare qualcosa e di rendere diciamo sensato questo finale di stagione. Mi auguro che quello che si è visto ieri possa essere una sorta di punto d'inizio per un finale di stagione positivo per i nostri colori che comunque non cambierà quella che è stata una stagione fallimentare però almeno qualche piccola soddisfazione speriamo di togliercela alla fine di questo campionato. Un saluto dal vostro graditore giallorosso94 vi invito come sempre a lasciare un mi piace per supportarmi a scrivermi nei commenti la vostra opinione e se volete anche ad iscrivervi al canale vi ricordo di attivare la campanella per ricevere notifiche sempre aggiornate su tutti i miei prossimi video e vi ricordo che potete seguirmi su tutti gli altri miei profili social il secondo canale di gaming il profilo sul sito Viola il profilo Instagram, pagina Facebook tutti i link li trovate in descrizione se mi seguite anche lì sapete che a me fa tanto, tanto, tanto piacere un saluto, sempre e comunque Forza Roma e ci vediamo ad un prossimo video ciao ragazzi ciao